Il Tribunale del Riesame ha annullato il divieto di dimora al Sindaco di Pinzolo. E' indagato per turbativa d'asta e peculato Michele Vicerichini. Grande affetto dai cittadini. Roberto Paccher, Presidente del Consiglio regionale, pubblicizza la sua azienda che rilascia Porto d'Armi e spinge politicamente per farli estendere anche ai condannati riabilitati. La Procura di Trento ha confermato le accuse per i sette anarchici arrestati. Confermata anche l'associazione con finalità terroristiche e richiesto il giudizio immediato. Un 33enne è stato affermato ubriaco in contromano intelligenziale. Tropportato in questura ha aggredito due agenti prima di essere bloccato e arrestato. Le grandi nevicate spingono 300 cervi vicino alle case. L'esperto avverte, lasciamo ristare, la paura e lo stress per l'animale possono essere fatali. 7.30 è ora di tornare a casa. È ora di fare la dichiarazione dei redditi. Prenota il tuo appuntamento con Caffacli su www.mycaf.it o telefonando al numero unico 199 199 730. Caffacli, dove tutto è più semplice.